Gazzaniga una settimana dopo il maltempo torna a far danni, allagamenti e detriti in strada. In via Cesare Battisti vanificata una parte del lavoro di questi giorni. A oltressenda alta intanto la località Spinelli rimane isolata. Alloggi protetti, gli uffici, in casa albergo, l'accreditamento di tutti i posti al centro di urno integrato e una comunità più vicina alle persone con demenza. Sono gli obiettivi del nuovo CDA della Fondazione Oneger di Albino. Il salotto di Lovere si veste di luce per la notte romantica, iniziativa dei borghi più belli d'Italia. Eventi per tutti gli innamorati e non solo. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. Niente a che vedere con quanto accaduto in Val Cavallina, ma anche in Val Seriana la pioggia torna purtroppo a fare danni. Sentiamo Vladimir Lazzarini. L'ennesimo acquazzone che si è abbattuto ieri sera sulla Valle Seriana ha provocato nuovi problemi e disagi. Tra le zone più colpite è quella di Gazzaniga, dove si è ripetuta la situazione di una settimana fa. La forte pioggia ha causato l'allagamento di scantinati, attività commerciali e dei piani più bassi di alcune abitazioni a Dorezzo. Sassi e detriti hanno invaso le strade. Problemi anche in via Cesare Battisti a Gazzaniga, dove una settimana fa l'acqua aveva fatto sollevare l'asfalto. Proprio in questi giorni Uniacque stava lavorando per sistemare i danni alla rete fognaria. Il sindaco Mattia Marelli ha detto che un'ora prima che cominciasse l'acquazione era stato effettuato il getto di calcestruzzo. L'acqua ha purtroppo distrutto tutto. Ora con Uniacque si dovrà capire qual è il problema e valutare se c'è la necessità di interventi strutturali. E per le immagini che avete visto dobbiamo ringraziare Betti Bombardieri. A oltre Senda Alta la località Spinelli rimane isolata dopo la chiusura della strada a causa del materiale che si è riversato lunedì sera sulla carreggiata per le forti piogge. Oggi sono iniziati i lavori per pulire l'alveo della Valle del Vervé ma il sindaco Giulio Baronchelli, viste anche le previsioni del tempo, ha deciso di non revocare l'ordinanza di chiusura. Voltiamo pagina. Ad Albino si è insediato da poche settimane il nuovo consiglio d'amministrazione della Fondazione Onegger, sempre guidato da Tiziano Vedovati. Abbiamo incontrato il Presidente per parlare degli obiettivi dei prossimi tre anni. Gli obiettivi che vi siete posti come consiglio d'amministrazione per i prossimi tre anni? Si parte dal riordino funzionale percettivo cromatico delle hall del secondo, terzo e quarto piano della Casalbergo. Abbiamo appena concluso i lavori del primo piano con il riordino proprio dei due nuclei del primo piano, nucleo Alzheimer e residenzialità leggera, dedicati in modo esclusivo a uno e all'altra parte, mentre prima si lavorava in modo promiscuo e quindi non erano ben funzionali al loro scopo. Poi abbiamo in programma l'acquisizione degli appartamenti cosiddetti piccoli, per realizzare degli alloggi protetti. Sono due appartamenti che sono proprio in un condominio di fronte alla Casalbergo e lì dovremo nei prossimi anni realizzare degli alloggi protetti. C'è inoltre il completamento e il rifacimento del piano terra della Casalbergo, perché noi abbiamo rifatto il primo, il secondo, il terzo e il quarto piano, però il piano terra dove si troveranno collocazioni gli uffici, perché attualmente sono in via Capuccini, ma la logica dice che debbano stare nella struttura più grande e sono più funzionali al servizio in Casalbergo e in via Crespi, e questo è un altro degli obiettivi importanti. E eventualmente arricchire con altri servizi sempre l'ala vicina agli uffici, perché ci sono degli spazi ancora disponibili. Dobbiamo poi lavorare per la contrattualizzazione dei posti al CD, al centro di uno integrato, perché attualmente abbiamo il contributo solo su 20 posti, ma il centro di uno è pieno con i 38 posti attuali. Dovremmo poi lavorare anche su quelle che sono la contrattualizzazione di altri posti attraverso magari altri servizi, che possono passare anche attraverso la nuova riforma sanitaria, prevede per esempio che le RSA possono essere soggetti erogatori di servizi sanitari e quindi integrarsi in quello che è il sistema sanitario, l'offerta sanitaria. E quindi da questo punto di vista siamo ovviamente attenti a quella che è l'evoluzione della riforma sanitaria, che è appena partita dall'augosto dell'anno scorso, però ci sono già dei servizi che potrebbero essere integrati alla nostra realtà. Teniamo conto che noi già abbiamo l'accreditamento per 10 posti di cure intermedie, cioè delle persone che vengono dimesse dall'ospedale e che vengono riabilitate prima di tornare al loro domicilio. Quindi in quell'onda siamo già inseriti in parte in questo progetto, dobbiamo solamente, non solamente per modo di dire, dobbiamo incrementare quello che è il nostro aspetto. Non ultimo il progetto di Dementia Friendly Community che abbiamo condiviso nell'impostazione, nell'idea con i servizi sociali del Comune di Albino e su questi, cosa vuol dire, detta in italiano? Vuol dire creare una comunità albinese che sia amica delle persone con demenza. Quindi c'è un percorso da fare che è già stato realizzato in altri stati, prendendo questo modello di comunità che si attrezza per essere più vicina alle persone con demenza. Si parla poco di disagio psichico, forse per una sorta di pudore, a volte per timore. Invece non bisognerebbe aver paura di affrontare questo tema. Ed è quello che sta facendo la Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova con un ciclo di incontri giunto al terzo appuntamento. Maria Anna Mai è un tecnico della riabilitazione psichiatrica che lavora alla Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova. La incontriamo perché venerdì, nei prossimi giorni, ci sarà una serata di sensibilizzazione. Di cosa si parlerà? Questa serata di sensibilizzazione è la terza di un percorso di sensibilizzazione che la Fondazione Cardinal Gusmini sta promuovendo sul territorio di Vertova. Questa serata, dal titolo Senti chi parla, verrà svolta venerdì 17 giugno alle 20.30 presso la Sala Polivalente della Fondazione Cardinal Gusmini. A questa serata parteciperanno numerosi ospiti, tra cui alcuni utenti che condivideranno con noi la loro propria esperienza personale di vita. Operatori, una terp e una psicologa, che condivideranno con loro, con noi, il significato del proprio lavoro. Volontari del CAI, del Club Alpino Italiano, della sezione di Gazzaniga, parleranno del loro coinvolgimento nel progetto della montagna terapia, mentre, in conclusione, un familiare porterà il proprio punto di vista rispetto al disagio psichico e alla possibile guarigione sociale, quindi, di queste persone. Il filo conduttore di tutte le tre serate di sensibilizzazione da noi promosse riguardano il concetto di recovery, il concetto, quindi, di una possibile guarigione sociale e di una possibile rinascita dopo un percorso difficile e di disagio psichico. Al termine della serata ci sarà un piccolo ma stuzzicante buffet preparato e offerto dalle nostre comunità e verrà distribuito anche un nostro giornalino interno chiamato Modestamente, frutto proprio di un lavoro condiviso tra operatori e utenti creato negli ultimi mesi e che stiamo cercando di divulgare il più possibile anche sul territorio, proprio per sensibilizzare le persone al disagio psichico e a quello che i nostri utenti hanno da raccontare, non solo quindi la loro sofferenza ma anche le loro risorse. Vi aspettiamo quindi venerdì sera nonostante sappiamo che ci sia la partita dell'Italia al pomeriggio ma siamo sicuri che possa incuriosirvi anche questo tipo di serata. Ha lasciato un grande vuoto la scomparsa del Cardinal Capovilla avvenuta poche settimane fa. Ospitiamo questa sera un ricordo di Don Valentino Salvotti. Si è spento da poco il Cardinale Loris Francesco Capovilla che tutti ricordano come segretario di Papa Giovanni. Don Valentino Salvoldi, teologo di Ponte Nossa, ha conosciuto il Cardinale Capovilla anzi di più. Avevate un rapporto stretto di amicizia. Che cosa ricorda di lui? Ogni volta che incontro una persona io amo sintetizzare questa persona nel messaggio più bello che mi lascia. Allora io direi che parlare di Loris Capovilla la frase che riassume tantissimi incontri fatti in ogni momento era questa tantum aurora est è soltanto l'aurora è soltanto l'aurora è una frase che è piena di speranza è una frase che egli stesso ha preso da Giovanni XXIII in un momento in cui c'erano tensioni per il Concilio Vaticano II un momento in cui la gente diceva ma un Papa troppo vecchio i cardinali stessi che dicevano è troppo vecchio cosa va a tirare in ballo un Concilio Vaticano II chissà che sconvolgimenti farà nella Chiesa e il Papa disse tantum aurora est nel senso io comincio dopo le cose nasceranno la Chiesa non è in mano a un Papa la Chiesa è in mano allo Spirito Santo e lui era cosciente Giovanni XXIII di essere strumento dello Spirito Santo per cui diceva io inizio lo Spirito Santo porterà avanti quello che faremo tantum aurora est quindi cultura dell'amicizia estremamente semplice come uomo di una umiltà schiacciante poi direi l'uomo della speranza ormai l'ho ripetuto tantissime volte l'uomo che è diventato memoria storica e ha tenuto vivo sia il Concilio Vaticano II sia Papa Giovanni XXIII con una vita spirituale fortissima ecco io mi sono anche confessato ogni tanto da lui e dicevo Loris ma va bene confessarsi tutte le settimane lo faceva lo faceva anche Papa Giovanni lo faceva anche Papa Giovanni e mi diceva che si confessava sempre Papa Giovanni alle tre del venerdì diceva ora sesta momento in cui moriva Gesù e anche lui vedi il stesso criterio aveva scelto come confessore non un luminare un semplice frate che sia disponibile padre Cavagna e quando arrivava alle tre del venerdì come un bambino diceva Loris Loris arriva il mio confessore arriva il mio confessore oggi come se arrivasse il Padre Eterno e si metteva in ginocchio e stava lì un'ora e quante volte mi ha detto di essere misericordioso come lo era questo uomo ed è bello pensare che Papa Francesco porti avanti proprio questi concetti di questa bontà di questa misericordia di questo rinnovamento della Chiesa sono tutte cose che c'erano nel cassetto di Giovanni XXIII e vorrei concludere con queste immagini è stata forse la provvidenza sono venuto dal Bangladesh il giorno stesso che sono arrivato sono andato per trovarlo e mi hanno detto che era alla clinica Palazzolo sono andato nella clinica Palazzolo sono stato l'ultimo a dargli la soluzione questo mi fa mi emoziona la cosa dopo pochi minuti è morta e ho detto sei stato tanto bravo con me io sono lo contenne l'ultimo non per i miei inerti ma per il mio essere preti ti assolvono dei peccati padre e figlio adesso sia su un paradiso ad assolvere tutti noi sono una trentina i ragazzi che quest'anno prenderanno parte alla ventitreesima edizione di Vai Colcai iniziativa promossa dalla sottosezione Carlo Medici di Castione della Presolana e come sempre ci sarà Antenna 2 anche quest'anno seguiremo a distanza con dei collegamenti periodici la vostra iniziativa innanzitutto dove andate? andiamo in Valle d'Aosta quest'anno un rifugio Montfarlè un rifugio costruito appena 4 anni fa pur con l'architettura tipica ancora delle valli di montagna cioè cose moderne anche se all'interno appunto ci sono tutti i confort diciamo non tipici di un rifugio quindi è una zona di montagna molto bella immaginiamo sì non è diciamo una zona con vette molto conosciute anche se già un panorama sull'agrivola diciamo fra quelle un po' più conosciute non è una vera valle vallette diciamo di quelle che hanno il loro nome viene descritto come appunto San Pier che è il territorio il comune nell'ambito di questo rifugio è situato in molto abbastanza in alto insomma in altezza insolita per noi circa 2400 metri però non c'è molto da camminare per raggiungere perché comunque i mezzi portano già in quota e quindi ci sono 600 metri di dislivello cioè raggiungibili diciamo non in poco tempo insomma ecco ecco le iscrizioni sono già chiuse in quanti siete? siamo una trentina di ragazzi ormai è un numero consolidato negli ultimi due o tre anni cosa che appunto ci rende la stanza appunto contenti perché considerando quello che era qualche anno fa diciamo che c'è stata una buona ricrescita adesso si è stabilizzato lì poi un'altra nota positiva i diciamo animatori i ragazzi che ormai sono nelle superiori continuano a avere la passione di qualche anno fa e vengono con noi accompagnatori ci aiutano insomma ci danno una mano insomma senza essere troppo responsabilizzati però specialmente riguardo l'animazione quindi i ragazzi sono più portati rispetto a noi vecchietti quindi vedete crescere un futuro sì se si va avanti così appunto qualcuno ormai anche maggiorenne dovrebbe appunto andare avanti e creare appunto il nostro futuro e qui in preparazione questa esperienza avete un appuntamento questa domenica giusto? sì è l'ultimo appuntamento purtroppo gli altri due per motivi vari o anche di brutto tempo sono saltati domenica prossima c'è un programma una gita con partenza dalla chiesetta al passo della Presolana e colgo l'occasione per comunicare ai genitori che appunto vogliono partecipare con i loro figli che già sono iscritti alla settimana che rispetto al notiziario al foglietto di notiziario il percorso è cambiato perché appunto ci uniamo ai ragazzi del CAI Crusone che nell'occasione di festeggiare il cinquantesimo hanno in programma di andare alla Cappella Savina con un ritorno nel pomeriggio e merenda generale tra i vari gruppi che hanno fatto i percorsi diversi lungo la Presolana c'è una merenda un po' per tutti e così comunque ritrovo sempre la stessa ora magari meglio anticipare anche sulle otto e un quarto circa otto e mezzo mentre saranno già lì diciamo i ragazzi del CAI Crusone ecco colgo l'occasione per appunto rinnovare questo impegno che è anche un bene per i ragazzi che mettono a prova gli scarpuncini si allineano un po' ecco speriamo diciamo nel tempo non c'è bisogno da fare la danza da pioggia in questi giorni perché ne abbiamo già avuto abbastanza ci fermiamo per una pausa al rientro parleremo della notte romantica all'overe poi vi mostreremo alcuni passaggi della conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a tra poco riprendiamo con il telegiornale il salotto di Lover sta per vestirsi di luce in vista di un appuntamento in programma il 25 giugno scopriamo di cosa si tratta dal 18 di giugno sino al 5 di luglio la piazza 13 martiri si vestirà di una luce particolare quindi avremo un'illuminazione scenografica di quello che è considerato il salotto di Lover che lascerà sicuramente a bocca aperta i passanti con questo gioco di luci e di animazioni uno spettacolo veramente imperdibile che vedrà poi il 25 sabato 25 giugno in scena Lover la notte romantica proprio perché Lover aderisce a questa iniziativa promossa a livello nazionale dal club dei Borghi Borghi d'Italia e vedrà una serie di iniziative per tutti gli innamorati ma non solo si inizierà alla sera appunto con la possibilità di cena nei ristoranti durante l'iniziativa con musica live e dj in piazza 13 martiri e performance musicali itineranti nel borgo antico di Lover performance d'arpa di violino di viola e di fisarmoniche il tutto accompagnato con la magia e la suggestione del silence teatro che darà vita dei veri e propri quadri teatrali imperdibili e di grande impatto la torre civica sarà aperta di sera in modo gratuito e quindi chi avrà la fortuna di percorrere il percorso di risalita interno alla torre potrà dalla sommità ammirare l'Overe e il lago di Eseo by night uno spettacolo veramente emozionante imperdibile i negozi della Sarco aderenti all'iniziativa saranno inoltre aperti durante tutta la serata per consentire agli amanti dello shopping di fare e di acquistare il proprio pensiero magari romantico e proprio in tema romantico a partire dalle 22 in piazza 13 martiri per i più golosi appuntamento con il dolce romantico e lo spumante offerto dall'amministrazione comunale per tutti da ieri Giampiero Gasperini è il nuovo allenatore dell'Atalanta è stata la stessa società nerazzurra ad ufficializzare l'ingaggio dell'ex tecnico del Genoa oggi la conferenza stampa di presentazione vediamo alcuni passaggi presentiamo ufficialmente oggi il tecnico al quale abbiamo affidato la nostra prima squadra un allenatore importantissimo per noi Giampiero Gasperini al quale diamo un benvenuto grazie 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 veramente ma io ringrazio il presidente ringrazio la sua famiglia società tutta per me essere qui oggi ho veramente mille motivazioni difficile poterle elencare tutte però credo fortemente dopo la mia lunga esperienza di Genova ripartire dall'Atalanta da questa società credo che sia la condizione migliore per il sottoscritto per poter fare qualche cosa di buono portare quelle che sono le mie le mie conoscenze le mie capacità le mie possibilità per cercare di dare soddisfazione a chi ha avuto così fiducia non mi ho messo molto tempo a convincervi è bastato veramente un primo incontro e ritengo che oggi l'Atalanta sia nel panorama italiano del calcio una realtà molto seria molto ben gestita e che intorno ci sia un ambiente entusiasta e credo che ci siano le condizioni migliori per poter poter far bene il calcio e portare delle soddisfazioni intanto noi partiamo già da una squadra che è già consolidata c'è già un ottimo numero e gruppo di giocatori questa è la base è chiaro che l'obiettivo di tutti quanti ma per primo è quello di riuscire a migliorare il più possibile a valorizzare il più possibile chi è possibile fare e la società sicuramente lavorerà in questo senso e ci sarà tempo però il punto è quello che oggi c'è non possiamo spostare su altre cose per quello che riguarda le strutture mi sembrano siano veramente di primo livello credo che anche squadre importanti non dispongano di realtà di strutture così di questo livello quindi c'è tutte le condizioni per poter allenare lavorare nelle migliori condizioni possibili io verrò a riproporre chiaramente quelle che sono il mio gioco quello che mi ha portato ad avere spesso delle soddisfazioni vorrei poterlo ritrasmettere anche qui a Bergamo e credo che ci siano tutte le condizioni ieri Gasperini è stato già in sopraluogo a Rovetta dove l'Atalanta tornerà in ritiro dal 10 luglio una visita per verificare gli impianti che ospiteranno appunto nelle prossime settimane i nerazzurri al lavoro in preparazione al prossimo campionato di Serie A e noi proseguiamo con il nostro telegiornale ora l'appuntamento con la rubrica racconti di ieri a cura di Mino Scandella continua il ciclo di puntate dedicato agli affreschi venuti alla luce nella chiesa del paradiso di Clusone accanto alle malanne intorno che abbiamo visto nelle precedenti passaggi vediamo sotto una madonna che non è più in trono ma è seduta su un cuscino per terra una sorta di madonna dell'umiltà ma è una madonna che sta allattando il bambino quindi la madonna del latte derivata anch'essa dall'icona bizantina della galactotroposa la madonna che allatta ma anche madonna dell'umiltà in questo caso è stata utilizzata è nata quando era in discussione la natura umana la natura divina di Gesù con la resina lestoriana e all'origine era questa icona della vergine che all'altra il bambino poi ha avuto larghissima diffusione per tutto il XIII e anche infatti il XIV e XV secolo specialmente presso i santuari che vantavano la presenza di una reliquia sul latte della vergine ma il significato particolare è che in questo caso viene sottolineata da un lato l'incarnazione di Gesù e dall'altro il ruolo di Maria mediatrice Maria sostiene l'evozione all'umanità del Cristo che attraverso la madre e svolge la sua azione salvifica intorno ci sono altri frammenti a sinistra abbiamo un Sant'Antonio Abate con presfida faccio che in basso c'è il maialino e sopra sulla destra San Gottardo San Gottardo la devozione a San Gottardo è legata spesso agli ospizi agli ospedali San Gottardo è stato fondatore di ospizi di ospedali vesco di Il de Saim in Germania e a Clusone da una parte la devozione di San Gottardo è continuata anche dopo lo troviamo in Basilica sul quadro della Madonna del Rosario in alto c'è ancora San Gottardo ma anche legato ai serviti a Bergamo la chiesa dei serviti è legata al convento di San Gottardo mentre in basso l'ultimo frammento sulla destra riconoscibile dalla piaga sulla gamba è un frammento che illustrava San Rocco sia San Rocco sia Sant'Antonio sia San Gottardo sono compatibili con la destinazione del convento che era anche ospizio tutte e tre santi legati alla protezione contro alcune malattie una breve pausa e poi la parte finale a tra poco verso la fine del TG con i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 e 30 sul nostro canale principale Decoder una puntata dedicata a The Floating Peers i pontili galleggianti che nei prossimi giorni dovrebbero richiamare tantissime persone sul lago di Seo nella prima parte ricorderemo i prossimi e numerosi appuntamenti in programma nell'Alto Sebino poi con il sindaco di Pisogne Diego Invernici che in questi mesi si è occupato della mobilità di The Floating Peers spiegheremo come si è voluto gestire il flusso di visitatori e infine presenteremo le iniziative promosse con la quinta edizione del festival I Volti del Romanino la trasmissione appunto andrà in onda alle 20 e 30 le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23 e 30 i programmi poi sul canale principale continuano alle 21 e 30 la corsa su strada con il circuito Fosso Bergamasco la gara di Torre Boldone alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale e alle 23 e 15 Antenna 2 Sport il canale News 218 alle 21 e 30 il telegiornale alle 22 e 10 l'anteprima target questa sera dedicata al ricordo del fondatore delle suore Orsoline di Gandino il canale sportivo 628 alle 20 e 30 la partita di calcio in replica Prada Lunghese Ponteranica e alle 22 e 30 uno speciale dedicato alla gara nazionale di bocce che si è svolta disputata tagliuno proseguiamo con l'almanacco domani è giovedì 16 giugno il sole sorge alle 5 e 23 e tramonta alle 21 e 19 la luna è in fase crescente sorge alle 17 e 15 e tramonta alle 3 e 50 di venerdì la chiesa ricorda Santa Aureliano e infine le previsioni del tempo domani su Alpi e Prealpi Lombarde cielo da molto nuvoloso a coperto con iniziali deboli precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata che potranno essere anche forti sul settore di nord-ovest della regione e su Orobbie e Prealpi temperature in aumento le massime e con il meteo è tutto il telegiornale termina qui grazie per l'attenzione e buona serata a l'attenzione a Grazie.